Il venerdì è il giorno d'uscita del settimanale cattolico Vita Nuova. Questa settimana il periodico della Diocesi dedica all'immagine di copertina l'indulgenza desiderata di San Francesco, ovvero il perdon d'Assisi, di cui si occupa anche una pagina interna. La formula ormai consueta del settimanale alterna riflessioni di politica, economia e di carattere sociale alle pagine dedicate alla vita delle chiese triestine e a tematiche più squisitamente dottrinali. Vita Nuova dunque si occupa del reato di tortura inserito nel codice penale italiano di recente, della bocciatura della legge elettorale regionale e della conclusione della vicenda del piccolo Charlie Gard. Per quel che riguarda l'ambito religioso il settimanale tratta argomenti collegati alla festa patronale di San Giacomo, un confronto fra progetti europei sull'accompagnamento comparando più sistemi e la lettera che il vice sindaco Roberti ha inviato alla Caritas. L'editoriale firmato Stefano Fontane è dedicato al concetto di ecologia generale laddove l'approfondimento che chiude il giornale incentrato sulla paternità spirituale nel dialogo tra maestri e discepoli. Molte ricche le pagine di cultura e spettacolo che completano il numero di Vita Nuova che come sempre si potrà acquistare anche nelle parrocchie.